al momento dell'incarnazione il sentire la coscienza quale corpo inferiore attira a sé per primo al momento dell'incarnazione commento a mano a mano che si prepara per l'incarnazione la prima materia che la coscienza attrae a sé è la materia mentale perché anche il pensiero è materia ogni corpo il corpo della coscienza il corpo mentale il corpo astrale il corpo fisico non è separato dagli altri corpi ma li compenetra anche se ogni corpo risponde alle vibrazioni che coinvolgono le diverse densità della materia che lo compone